ariete le questioni di lavoro assorbono gran parte delle vostre energie i progetti in corso sono numerosi ma dovrete affrontarli con meno impulsività e più riflessione la sfera sentimentale adesso rimane oscurata toro usate cautela nelle conversazioni nelle eventuali trattative non tutto scivola come vorreste e la capacità di convinzione è scarsa però siete baciati da una luna generosa che vi porta a recuperare un sogno nel cassetto gemelli oggi dovete porre attenzione a come parlate come muovete le vostre emozioni potreste essere preda di false illusioni forse di qualche beffa ma non verrà guastata l'armonia che regala questo periodo positivo cancro l'umore è finalmente alto vengono amplificate le sensazioni positive la voglia di lasciarvi andare a vivere con più sentimento meno ansie una giornata piacevole che risveglia il vostro romanticismo leone fase astrale ricca di novità in ambito sociale molte le frequentazioni siete ricercati e inclini alla spensieratezza venere rafforza la positività del momento incontri speciali per chi cerca un amore vergine luna e nettuno in aspetto di opposizione oggi sottolineano le insoddisfazioni della vostra anima il confine tra obiettivi forse poco realistici e il materialismo più razionale non fatene un grande problema bilancia momento ricco di ombre e luci in amore in un'aura passionale e un po misteriosa comunque sempre intrigante prosegue l'inclinazione a intensificare contatti amicizie brillate di comunicatività scorpione cielo astrale di grande forza state recuperando energie e prospettive solide arriva qualche conferma ed oggi la luna amica vi regala momenti speciali con chi amate una vena di romanticismo inconsueta sagittario la giornata vede poca sintonia tra le percezioni emotive e la realtà prevale un sottile nervosismo che vi fa deviare dal consueto ottimismo ma ci sono ancora buone chance in amore e voglia di avventura capricorno potreste andare incontro a qualche gelosia o di sapore col partner l'amore è attualmente un po in ribasso il quadro astrale favorisce la coscienza di voi stessi le ambizioni e la determinazione per raggiungere gli obiettivi acquario venere in angolazione positiva allenta le tensioni e consente di trovare conforto con chi amate in un periodo controverso che spreme spesso le vostre energie e mette alla prova la pazienza pesci la luna oggi è di passaggio nel segno e riesce ad esaltare la vostra anima creativa e irrazionale in un periodo in cui avvertite un po di stanchezza e avreste voglia di allontanarvi da tutto e tutti buone stelle